Non so cosa sia successo nel secondo tempo perché ero abbastanza tranquillo visto quello che la squadra ha fatto nel primo. Abbiamo iniziato anche bene però nel momento che abbiamo subito il gol poi siamo andati un po' in confusione e abbiamo concesso troppo, regalato troppo commettendo degli errori che non avevamo fatto nel primo tempo. Da un lato sono fiducioso perché le cose che abbiamo fatto nel primo tempo non si fanno così in fretta quindi vuol dire che noi ce l'abbiamo qualcosa e di questo io devo ripartire da questo. Nel secondo tempo ci sono degli errori e delle cose che noi facciamo che ti demoralizzano perché non è possibile di aver fatto un primo tempo così commettere questi errori perché poi sono errori banali, errori che i ragazzi non meritano neanche di fare perché come è successo a Roma quando abbiamo concesso i gol. Sembra che la situazione negativa che è stato il gol del pareggio ti demoralizzi insomma e questo non deve accadere perché in una partita le cose possono essere positive o negative ma sempre si risolvono come una squadra. Poi è chiaro se uno ha un campione può risolvere da solo a volte però visto quello che era stato fatto nel primo tempo noi dobbiamo continuare su quella linea lì.